Il nuovo ministro delle finanze greco presta giuramento ad Atene davanti al presidente della Repubblica Ellenica. Una entrata in funzione difficile nel giorno in cui sono arrivati i rappresentanti della Troica, formati da membri della Banca Centrale Europea, del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Europea. Al termine dell'incontro il nuovo ministro ha detto che molte cose sono cambiate negli ultimi tre mesi e che la Grecia si aspetta ormai anni difficili. Intanto la popolazione ellenica ha ripreso a depositare i propri risparmi nelle banche locali. È una vera e propria inversione di tendenza dopo che nelle prime due settimane a giugno erano stati ritirati almeno 5 miliardi di euro che oggi invece sono ritornati nei forzieri.